ci risulta che dopo il lockdown 3,5 milioni di italiani abbiano adottato acquistato un amico a quattro zampe volevamo capire come ci si deve comportare allora sì tutto sommato ha portato una maggiore attenzione perché si dedica più tempo a casa e nostri amici e quindi al di là delle adozioni che servono per fare compagnia ovviamente in un mondo di soli come come quella attuale ma anche maggiore attenzione a quelle che sono i bisogni o i piccoli problemi dei cani e dei gatti che sono in casa quindi abbiamo avuto un aumento di visite se non altro e questo è una delle poche cose positive che ci ha portato questo covid questo sì anche i nostri amici ma quattro zampe possono soffrire di stress da lockdown sì noi abbiamo avuto non solo da lockdown le prime avvisaglie di quello che gli animali possono sentire purtroppo noi in questa zona dove io esercito che era valpolcevera abbiamo avuti al momento del crollo gli animali erano scioccati e stressati perché hanno assimilato questo a una forte scossa di terremoto non mangiavano più non dormivano più si crollo del ponte morandi del 2018 per quanto riguarda invece il questo periodo beh dipende non certo i gatti che sono abituati a vivere in un ambiente casalingo che raramente escono ma i cani chiaramente e soprattutto nelle zone rosse hanno diminuito il loro numero di uscite eh nonostante i tentativi dei dei proprietari di far sì che questo insomma avessero del tempo a disposizione spesso si portavano in parchi che sono risultati chiusi per le norme contro il covid qualche difficoltà l'hanno avuta qualche sbuffo in più quello senz'altro e magari un aumento di peso come è capitato anche a noi nell'impossibilità di fare un corretto movimento quello sì e in questi casi che cosa si può fare per alleviare la sofferenza poi del del nostro pet? Beh cercare di fare giocare anche se in in spazi ridotti cercare di distrarre anche questi cani cercare di stare attenti all'alimentazione perché non è una forma compensativa quella di aumentare eh l'attenzione nei conforti dei cani regalando ribonbon eh o o premietti che sono così presenti nei nostri negozi di animali e servono soltanto per far aumentare in maniera veramente esponenziale il peso di questi nostri amici con a tutto riscapito della salute quello sì. Restando sempre in tema di dieta per sia per i cani che per i gatti ecco volevamo capire esiste anche per loro una dieta anti invecchiamento? Sì ci sono adesso in commercio molte diete che eh forniscono un giusto apporto di calorie e di proteine ad alta digeribilità fatte apposta per soggetti anziani in più alcune ditte hanno aggiunto anche eh glucosamina o comunque dei prodotti che dovrebbero essere protettori sulla cui efficacia però bisogna tutto ancora da dimostrare non ci sono eh studi scientifici particolarmente provanti sull'efficacia di controprotettori anche se il loro uso viene fatto in medicina umana eh indubbiamente un'attenzione sull'alimentazione ci deve essere perché è chiaro che le esigenze di un cane anziano non possono essere uguali o di un gatto anziano non possono essere uguali a quelle di un soggetto eh giovane o piena forza insomma adulto e questo questo è qua bisogna stare molto molto attenti all'alimentazione bisogna cercare comunque in tutte le fasi dell'età di prestare attenzione al peso questa è un'indicazione che va bene sia per la medicina umana che per la medicina veterinaria perché l'aumento di peso o l'eccesso di proteine o di calorie hanno poi riscontri negativi sulla salute. Quali sono invece i primi segnali quelli da da cogliere per capire se il nostro amico a quattro zampe sta bene? In questo caso forse mi riferisco di più ai gatti che è molto difficile comprenderli anche nel carattere. Allora per quanto riguarda i gatti hanno una mimica facciale non particolarmente facile da decifrare nei confronti ad esempio dei cani. Una delle cose a cui bisogna prestare molta attenzione soprattutto nei gatti che sono nella terza età e quindi superati dieci anni. Noi abbiamo animali che trionfalmente raggiungono l'età di diciotto diciannove anni però partendo di dieci anni controllare il consumo di acqua perché è importante. Il gatto è un animale che deriva da zone aride quindi beve tendenzialmente molto poco e concentra molto le urine. Un gatto che beve molto ma anche un cane che beve molto non è un buon indice di salute. Potrebbe essere la spia per un problema renale, potrebbe essere la spia per un diabete, potrebbe essere anche la spia di problemi tiroidei quindi va sempre prestata molto molta attenzione a questo consumo di acqua e anche aumento di produzione di urina da parte degli animali. Altro poi chiaramente la difficoltà sia del gatto delle cane di superare ostacoli che fino a poco tempo prima erano alla loro portata. Questo potrebbe semplicemente dire che la massa muscolare con l'età si è ridotta, qualche problema di artrosi è alle porte quindi anche questo è un'altra delle spie a cui bisogna prestare attenzione. Ecco per esempio noi in casa abbiamo un gatto che ogni tanto ulula, per fortuna lo faceva già da piccolo però mi sembra di capire che anche ululare sia un sintomo di malessere, è così? Diciamo che anche loro invecchiano a livello cerebrale quindi hanno certi sintomi che possono essere ricondotti da persone molto anziane, non dicono la demenza ma comunque ovviamente possono essere un po' più assenti, magari ululare alla luna, ci sono dei problemi anche di circolazione cerebrale ovviamente che il tono muscolare della muscolatura dei vasi è cambiata, il cuore benissimo può non pompare più come una volta quindi adesso c'è una circolazione non adeguata. Questo ci può stare. Ecco un'altra delle patologie che possono colpire gli animali in fase avanzato se non è stata fatta un controllo adeguato è appunto patologie cardiache. Togliamo il diciamo il falso sintomo della tosse che anche in medicina sta scomparendo. Quando un cane anziano ha tosse non automaticamente significa che c'è un problema cardiaco. La stessa cosa se un cane o un gatto ha un problema cardiaco, il gatto soprattutto, ma il cane dovesse avere un problema cardiaco non significa che la tosse sia di origine cardiaca. Probabilmente è anche un invecchiamento dell'albero respiratorio da parte del denaro. È chiaro che un soggetto anziano esattamente come per le persone richiede di una maggiore attenzione e quindi una maggiore frequenza di visite proprio per valutare lo stato di salute. Anche perché è molto difficile accorgersi che abbiano un problema cardiaco ad esempio. Ma dunque lo capisce ovviamente il veterinario a cui ve lo prestate perché è un'auscultazione e dall'auscultazione si passa eventualmente dal sospetto a quello che è un esame che è diventato ormai di routine che è l'ecocardiografia. Avviene nell'uomo come nel cane o nel gatto. Questo di base è importante. Dopodiché una delle cose che il proprietario può fare è contare il ritmo respiratorio durante il sonno del proprio amico a quattro anni. Si fa un conto degli atti respiratori nell'arco di un minuto. Se è sotto i 30, 30, 33 è tutto a posto. Se dovesse essere un pochettino più frequente quello potrebbe essere un indizio che consiglia di portare l'animale a fare valutare al veterinario. E parlando sempre di invecchiamento i nostri amici a quattro zampe possono sviluppare anche una certa aggressività? No, questo no. Un'aggressività non corrisponde all'invecchiamento di per sé. A volte ci possono essere patologie che possono aumentare l'aggressività. Sviluppare ad esempio delle forme neoplastiche tumorali a livello cerebrale può dare delle compressioni e stimolare non solo le forme di crisi convulsive ma anche un aumento di aggressività. Anche quello è uno dei fattori da fare valutare con molta attenzione la veterinaria. In base anche a quello che diceva lei prima mi sembra di capire che ci sono patologie molto comuni all'uomo e ai nostri amici a quattro zampe, corretto? Certo, noi quando svolgiamo il nostro piano di studi compariamo spesso con l'uomo perché tantissime, tantissime, il 90% delle malattie, il 80% delle malattie che colpisce l'uomo può colpire anche gli animali. Diciamo che la medicina veterinaria in questi ultimi anni ha fatto passi da gigante e in alcuni campi si è messa alla pari della medicina umana. Molte sono le patologie che riscontriamo nei soggetti anziani, ora stiamo parlando dei soggetti anziani come nell'uomo, quindi dal diabete, diabete insipito, diabete emellito, insufficienza renale, insufficienza epatica, iperadrenocorticismo, patologie tiroidee, quindi sono più o meno le stesse patologie che colpiscono l'uomo con spesso anche sintomi analoghi. Ha parlato di stress degli animali dopo il crollo del Morandi, in questo caso cosa si è messo in atto? psicologi per gatti, per cani, esistono? Esistono dei colleghi, io vorrei spezzare una lancia a favore dei colleghi che in qualche maniera si sono non solo laureati in medicina veterinaria, ma hanno fatto dei corsi esattamente come i psichiatri o psicologi per quanto riguarda i psichiatri in medicina umana. io darei sempre fondamentalmente fiducia a medici veterinari comportamentalisti, anche se attualmente so che sul mercato ci sono molte persone che fanno qualche corso e chi più chi meno, chi più chi meno perché ci sono anche persone preparate, possono intervenire a dare consiglio e cercare di risolvere situazioni. È chiaro che si deve avere un cambio di atteggiamento nei confronti del cane e del gatto, devo dire che è sempre un po' più facile intervenire sul cane che sul gatto. E poi, a seconda di quello che è il parere del medico, si possono somministrare dei farmaci che in qualche maniera non curano la patologia, ma aiutano, rilassando l'animale, a effettuare dei cambi nella propria vita e chiaramente accettare determinate cose. Un'altra domanda legandoci anche all'invecchiamento umano. Spesso i nostri amici a quattro zampe sono gli unici amici che gli anziani hanno. Le cure mediche però sono anche costose. Si è mai pensato di far rientrare queste cure all'interno del sistema sanitario nazionale? È questione di lana caprina, nel senso che è chiaro, vi devo dire che in paesi un po' più evoluti come i paesi anglosassoni, Inghilterra, ci sono quasi tutti o gran parte dei proprietari ha le forme assicurative, più o meno, che possono coprire in forma maggiore o minore, le spese veterinari. Questo da parte del veterinario è un aiuto incredibile perché non vi è, in alcuni casi, limiti di spesa e quindi si possono fare anche diagnosi molto molto costose che vengano coperte dall'assicurazione. eh fare rientrare animali nel piano di sanità eh significherebbe eh mettere d'accordo anche coloro i quali non possiedono animali, in molti casi detestano gli animali. Credo che questo sarà molto molto difficile. Ad oggi ci sono delle mh forme assicurative che in qualche maniera eh coprono delle spese veterinarie. Non siamo ancora a livello dei paesi più evoluti, ma insomma pian piano ci stiamo portando al loro livello. Rientrando sempre nell'effetto lockdown, il fatto appunto che tante famiglie italiane in più abbiano degli amici a quattro zampe, un consiglio per non abbandonarlo, per facilitare la vita in famiglia, ecco perché io immagino che magari qualcuno che ha preso un cano, un gatto durante il lockdown magari non fosse neanche preparato, non tutti abbiamo la stessa sensibilità, non so. È un discorso molto lungo da fare. Sintetizziamo. Quando una persona decide di prendere un animale, un compagno, potrebbe semplicemente chiedere a un veterinario di fiducia qual è la tipologia di male che può prendere. Noi normalmente quando poche persone illuminate vengono al nostro studio e chiedono, fanno questa domanda, poniamo qualche interrogativo, cioè lo spazio a disposizione in casa, se si è a disposizione un giardino o meno, quante ore si sta a casa, quante ore si può dedicare al nostro amico a quattro zampe, che tipologia caratteriale la persona ha, perché da tutte queste cose si può restringere il campo e consigliare se prendere un animale o meno e che tipo di animale. Poi va da sé che chiaramente dovrebbe essere un senso di responsabilità quello di prendere un animale. Io spesso vedo persone che comprano o prendono animali anche di grandi dimensioni senza avere coscienza di quello che può essere un cane di quelle dimensioni, chiaramente per quanto riguarda il cambiamento di vita della propria famiglia, se si è in grado di gestire un animale del genere, non solo come comportamento, ma economicamente, e pensare che un cane ha un costo. Oggi un cane o un animale, se si vuole tenere bene, ha un costo. Che i veterinari non sono dei mecenati miliardari che dispensano la loro arte gratuitamente, ma sono dei professionisti che hanno studiato e hanno investito molto nel loro lavoro, nella loro vita, per arrivare a un certo livello e quindi io credo che la cosa principale sia la base. Posso permettermi un animale? Posso sinceramente curare un animale? Perché poi abbandonarlo per strada è un gesto veramente disgustoso che si verifica normalmente all'inizio dell'estate. Non vorrei che con la fine di questo problema del covid si verifichi in anticipo questa ennesima stortura e bruttura della nostra società. Ribadisco, bisogna sempre contattare, con la cosa che dico, contattare dei professionisti, quelli sì per l'educazione degli animali, se non si hanno mai avuti animali. Questo è importante. Una delle cose che io vedo spesso, ci sono dei problemi proprio di relazione con i cani, con i cani soprattutto più che con i gatti, quindi vedo dei soggetti ingestibili che possono essere potenzialmente pericolosi perché sfuggono di mano ai proprietari e quindi non bisogna mai vergognarsi di chiedere aiuto proprio perché un cane o un animale deve essere un piacere, non deve essere un problema, né per sé né per gli altri. Grazie.